È difficile, è difficile perché come io avevo detto ragazzi prima della partita, pochi minuti prima si era un ambiente che non mi piaceva perché è chiaro poco pubblico, un ambiente così un po' e noi dovevamo essere bravi a interpretare bene questa partita. Invece siamo stati attendisti, siamo stati sotto ritmo, è chiaro subendo poco ma era normale subire poco da questo Varese, poi anche oggi comunque siamo andati tre volte davanti al portiere e comunque abbiamo preso due gol. E questo è incredibile perché basta vedere l'azione del 2-1 del vantaggio e non si può. Adesso si presenta la partita più importante e perfetta perché tanto non possiamo gestire niente noi, dobbiamo solo andare a vincere questa partita e quindi se la vinciamo bene, è un segno che meritiamo di andare avanti altrimenti è un segno che meritiamo di uscire. Senta mister, lei nello sfogo, chiamiamolo così di martedì, ha detto dobbiamo stare tutti dalla stessa parte, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per raggiungere l'obiettivo, però attirare la volata dovrebbe essere la squadra e oggi la squadra non lo ha fatto. Per colpa di chi? Non riusciamo a capirlo, se magari vuole dirlo lei. No, come ho detto noi dovevamo e dobbiamo toglierci di dosso, siamo arrivati all'ultima partita praticamente. Come sapevo e come vi avevo detto questa partita influiva poco perché comunque questa squadra non è in grado di gestire un risultato. Adesso c'è da volta a pagina, abbiamo pochi giorni per preparare una partita che è già uno sconto di playoff, dobbiamo battere questo Livorno se vogliamo cullare dei sogni e andare avanti, questa è la realtà.